Finalmente eretto, il totem di Max del Mama Bar è stato eretto dopo un duro sforzo di gruppo, il miracolo. A Savona è stato eretto un nuovo totem, questo rappresenta allegoricamente l'erezione del grande Max. Adesso ci saranno altri movimenti tattici per posizionarlo nel modo più idoneo. Sulla nostra destra un albero che disturba, forse non l'avevano contato, ma noi non ci spaventiamo per questo. Ragazzi, un evento magico per Savona, godetelo. Eccolo, eccolo, l'apertura del grande ombrello, del grande preservativo, cioè volevo dire che proteggerà Savona da delle piogge tempestose come ci sono state negli ultimi due o tre giorni. Eccolo, potete vedere, bello della diretta, ma non si nasconde niente. Adesso bisogna vedere l'estensione dell'ombrello per calcolare i vari ingombri laterali, bisogna trovare un posizionamento che sia... Ah, forse ce l'abbiamo fatta. Eccezionale. Eccezionale. Colpo d'occhio. Sembra che la collocazione non vada a interferire con gli elementi strutturali della piazza. Però vedo che ancora aperto a metà, ci stanno valutando i vari ingombri. Mamabar, ex vini d'asti. The Revenge. Che roba, ragazzi. Che libidine. Doppia libidine. Questo per Savona rappresenta veramente un momento di... Un momento di grande gioia, di grande commemorazione dei tempi che furono quando Savona era una città che non aveva niente a invidiare al resto del mondo. Qui c'è la Desi che torna con il posizion. Speriamo che questo grande ombrello sia da riparo per le nuove generazioni e per il new deal della città di Savona. Ce lo auguriamo tutti. Alla prossima puntata.